Caro Presidente Marsilio, dove sono i 3 milioni di euro promessi con la legge cura Abruzzo alle case di riposo abruzzesi? Ancora non arriva nulla e sono passati 8 mesi. Gli operatori, gli infermieri, le OSS, ma anche i tanti pazienti attendono l'erogazione di questi fondi. Le avete promessi per mesi, avete riempito pagine di stampa e soprattutto fatte tante conferenze stampa. Un appello soprattutto ai rappresentanti di centrodestra della provincia di Teramo che intervenissero in maniera forte, decisa, per dare una mano alle case di riposo e soprattutto a chi ci lavora. Sono 8 mesi che attendono e attendono soprattutto in questi mesi di pandemia.